si, non bisogna essere tanto a posto eh ci mancano due, tre venerdì la fanno, la fanno tutti i soldi si è brutta no, è brutta no, è brutta no, è bella è bella una mossa prima non arrivate ma nervio noi abbiamo andato da Berga abbiamo andato quel tiro qua 290 sono 210 24 28 28 28 28 29 i i i